C'è già un personaggio che io ho creato su di me che si chiama Romeo Hart che per me è una specie di cavaliere errante, contemporaneo che ha questa caratteristica di avere sempre gli occhiali da sole neri questi occhiali da sole neri e di solito al posto della corazza ha una camicia molto luminosa, molto argentata per dare il via della corazza e della protezione questi occhiali da sole anche per proteggersi dall'esterno per dare una facciata come i cavalieri facevano, all'emboca si armavano l'armatura era creata apposta per camuffare chi c'era dietro camuffare le emozioni, camuffare, coprire la vulnerabilità della persona che c'era via fuori armatura quindi se tu hai paura attraverso l'ammatura non lo puoi vedere se tu sei il mio nemico, se io sono davanti a te non traspare questa quindi mi piace questa idea di creare questa immagine che poi è andata a finire che per me questa immagine è anche legata all'immortalità perché quando vedo che ne so personaggi molto famosi o adorati dalla gente dai ragazzini magari che adorano ne so dei cantanti loro comunque hanno questa immagine che si creano intorno a loro e ce la propongono a noi e noi la vediamo come wow come immortale quasi quindi mi piace questa idea dell'immortalità però con l'erabilità allo stesso tempo e quindi oggi ho usato un po' di occhiali da sole mi piace anche il fatto, mi piace la discoteca fare un contrasto tra l'antico e la discoteca il medioevo e la discoteca grazie 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 grazie